Meta ha deciso di lanciare una versione dei suoi social network a pagamento. La compagnia creata e gestita da Mark Zuckerberg sta introducendo un'opzione per gli utenti europei. A partire da novembre potranno pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza visualizzare pubblicità. La fruizione gratuita di Facebook e Instagram rimane garantita. Meta ha chiarito però che gli utenti visualizzeranno pubblicità considerate più pertinenti. Ma quanto costerà l'abbonamento a Facebook e Instagram? I piani premium mensili saranno disponibili al costo di 9,99 su web e 12,99 euro su iOS e Android. Inoltre, a partire dal primo marzo 2024, ogni account aggiuntivo di un utente subirà un addebito di 6 euro al mese per l'accesso web per l'accesso da dispositivo mobile.